Vivo Facile, buongiorno a tutti, oggi un argomento un po' diverso, vi faccio vedere la mia agenda di quest'anno ricavata dal quaderno, quindi semplice, economica e soprattutto personalizzabile. Vi dico subito, se state cercando come fare un'agenda molto bella da un punto di vista estetico, siete nel video sbagliato, perché la mia agenda è veramente un tanto al chilo, molto approssimativa dal punto di vista estetico, però nulla vieta che voi poi possiate in qualche modo organizzarla al meglio, quindi con la vostra creatività, con la vostra manualità. Però la mia è proprio, il mio video vuole essere d'aiuto nel capire come un'agenda possa essere funzionale per le nostre esigenze. Io effettivamente anni fa compravo le agende già preimpostate, ma mi rendevo conto che spesso non erano esattamente come le volevo io, quindi tante pagine che in realtà poi non sfruttavo, altre pagine che comunque avrei voluto diversamente e che non mi erano utili nella mia pianificazione, quindi ho deciso proprio di farla io, partendo da zero con l'aiuto appunto di un semplice quaderno e del computer con la stampante. Iniziamo perché voglio subito farvi vedere come l'ho organizzata. Eccola qua, eccolo qua il mio quaderno bellissimo, questo è degli anni 80-90, beh la riconoscete tutti, è la meravigliosa Candy Candy, io adoro Candy Candy, adoro la storia, adoro il cartone animato, adoro il manga e ragazzi guardate che disegni. Tra l'altro qui Candy Candy tiene in mano una bellissima libellula che è uno dei miei animali preferiti, un animale simbolico per me veramente magico, che rappresenta l'equilibrio, rappresenta la libertà e quindi mi è piaciuto tantissimo questo quadernino. Io ho scelto un quadernino piccolo, quindi non un quadernone grande, per una questione di comodità, quindi per poter essere eventualmente trasportato anche in borsetta. Io devo dire di solito le agende le tengo a casa, però potrebbe esserci un qualche momento in cui necessito di portarlo con me e quindi il quadernino piccolo è ottimo. Ho preferito evitare anche i quaderni ad anelli, piccoli o grandi che siano, perché se è vero che hanno il vantaggio di poter inserire al loro interno i vari fogli a buchi in qualsiasi momento, è pur vero che comunque il quaderno ad anelli rimane più rigido, rimane più ingombrante appunto negli spostamenti e quindi ho preferito evitare, ho preferito utilizzare un normale quadernino flessibile e leggero. Vi faccio vedere come l'ho organizzato all'interno. Intanto la mia agenda quaderno vuole essere un'agenda 16 mesi, quindi vedete io qui ho incominciato stampando un calendario 2024, perché dal mese di settembre io appunto utilizzo la mia agenda e naturalmente poi ho anche stampato un annuale del 2025. Tutti questi calendarietti già pronti li trovate appunto su internet. In particolar modo ciò che voi vedrete in questo momento l'ho stampato da un sito molto bello che si chiama 7, scritto proprio 7 come numero, calendar tutto attaccato, ed è appunto un sito molto carino che vi dà la possibilità di stampare non soltanto i calendari annuali, vedete già belli che pronti, ma anche i planner che voi vedrete adesso, che vi farò vedere. Eccoli qua, questo planner è un planner mensile, vedete ci sono tanti quadratini, abbiamo i giorni della settimana, sopra c'è scritto settembre 2024 e abbiamo tutte le nostre date. Perché ho scelto un planner mensile? In realtà esistono anche quelli settimanali e giornalieri, perché il planner mensile è molto utile in quanto ci consente poi a fine mese o a fine anno con un colpo d'occhio immediato sul mese che andiamo a cercare di avere proprio una panoramica delle cose che abbiamo fatto. Andando anche poi a cercarci quelle che ci interessano. Ora vedete che nel mio planner appena iniziato io ho scritto pagato bollo auto, l'ho pagato oggi, me lo ricordo, e a fine anno, a settembre del prossimo anno, dando un'occhiata, saprò più o meno quando dovrò ripagare il bollo dell'auto. Ma io all'interno del mio planner metto tante cose, faccio delle X per segnare i giorni in cui faccio attività fisica, in modo che a fine mese, a fine settimana, a fine anno io possa vedere la mia costanza sotto questo profilo. Metto il giorno in cui, non so, ho il ciclo, quindi posso monitorare se è regolare, eccetera, eccetera. Metto le sedute che ho fatto di mindfulness, che è una tecnica, diciamo, tra virgolette meditativa, eccetera. Quindi posso vedere se lo sto facendo in maniera costante. Metto gli appuntamenti, appuntamento dai medici, le riunioni che ci sono a scuola. Quindi è veramente tanto utile, secondo me, il planner mensile. Consiglio invece il planner settimanale, che è diviso appunto per settimane, ha delle colonne ogni giorno della settimana, all'interno di cui ci sono degli orari, quindi lunedì ore 6, ore 7, ore 8. Quello lo consiglio a chi ha bisogno, ovviamente, di una pianificazione in qualche modo settimanale e quotidiana al dettaglio per orari, e quindi chi magari svolge un lavoro dove ci sono sempre appuntamenti diverse, cose diverse da fare, quello può essere molto utile per voi. Ma io sono una casalinga, che ha anche un lavoro, diciamo, abbastanza al di fuori. Un lavoro comunque molto, posso dire, banale, ripetitivo, per cui non ho bisogno di segnarmi ad orario che appuntamenti ho, perché grosso modo sono sempre gli stessi e gli appuntamenti a extra del mese li segno qui. Quindi vi consiglio sicuramente il planner mensile, se avete una vita abbastanza ripetitiva, ma avete quelle scadenze, quelle cose, diciamo, normali che ci sono all'interno di un mese e volete segnare comunque per ricordarvele. E, ripeto, quello mensile vi dà proprio una panoramica immediata di un intero mese, quindi è veramente rapido, di lettura rapida. E a fine, diciamo, dopo aver appiccicato nelle mie pagine tutti i planner mensili fino a dicembre 2025, ho voluto mettere questa pagina facendo proprio un taschino, vedete, fatto in maniera veramente grossolana con dello scotch, con i menu planner. Cosa sono i menu planner? Allora, li ho stampati, li ho stampati un bel po', perché le settimane dell'anno sono comunque circa 52, li ho stampati un po'. Eccoli qua, il menu planner che cos'è? È la pianificazione settimanale del menu. Perché è utile? Perché sapere, prendersi del tempo per pianificare il menu della settimana ci consente di non avere quel dilemma veramente fastidioso del chiederci ma cosa cucino oggi? Ecco, pianificare durante la settimana è utile per questo motivo. Poi si può essere flessibili, quindi magari il lunedì abbiamo pianificato qualcosa ma non ci va, lo spostiamo con il martedì. Però grosso modo abbiamo già un'idea di quello che noi andiamo a cucinare di volta in volta, di giorno in giorno. E questo per noi donne, per noi mamme, è veramente tanto tanto utile. Io quindi da questo mio taschino prendo il mio menu planner, lo vado a compilare a inizio settimana o a fine settimana per la settimana dopo e poi lo vado a mettere appunto sul mio frigorifero oppure lo appiccico nella mia agenda. A me ne esistono di tanti tipi di menu planner. Il mio preferito è questo perché io ho l'esigenza di avere quattro tipi di pasto, quindi colazione, pranzo, merende e cena. La colazione in realtà io la sostituisco alla merenda di scuola dei miei figli. Quindi mi serve proprio perché io devo avere la mia esigenza è quella di variegare non soltanto pranzo e cena ogni giorno ma anche le merende e pianificarle prime mi consente di variarle, quindi di far sì che i miei figli non si stufino con la stessa merenda, ma anche di cercare delle alternative il più sano possibile e di poterle alternare durante la settimana. Però esistono anche i menu planner dove c'è solo pranzo e cena, menu planner che hanno di lato la nota, le note, la lista della spesa. Io in realtà non ho esigenza di questo perché la lista della spesa la faccio sul mio telefono, quindi per me questo è il miglior menu planner, l'impostazione migliore del menu planner, però appunto ce ne sono tanti per ogni esigenza. E i menu planner dove li scaricate, ecco non li ho trovati su 7 calendar o 7 calendar, che dir si voglia, ma li ho trovati su Pinterest, quindi andate a cercarli e li trovate lì. Vedete qui c'è un taschino a busto. E poi inizia il vuoto, beh queste pagine un po' ingiallite, perdonate ma ragazzi qui è un quaderno di candy, candy originale, sarà anni 80, anni 90, quindi è chiaro che le pagine sono un po' ingiallite. Da qui inizia il mio diario personale vero e proprio, quindi da qui in poi io vado a mettere quello che voglio, i miei pensieri, le mie riflessioni, il racconto della mia giornata. Qual era il limite delle agende precedenti? Che essendo datate avevano ovviamente una sola paginetta per giorno e io però non sono costante nel fare le agende, nel fare i diari, quindi capitava che magari io non scrivessi per un mese e rimanevano quindi tutte le pagine di un mese vuote, però poi scrivesse ad un certo punto un giorno e avessi esigenza non di una pagina ma magari di quattro o cinque pagine. Quindi l'agenda datata a me non piace per questo motivo perché io non sono costante nel scrivere le mie riflessioni, i miei pensieri e magari c'è il giorno che voglio scrivere quattro pagine e poi per quattro settimane non scrivo più e mi rimangono quelle pagine vuote fondamentalmente. Quindi poter invece scrivere quando voglio per me è un vantaggio enorme, quindi io qua posso scrivere oggi e magari scrivere tre quattro pagine e poi ripeto magari non scrivo più per tanto tempo. L'unica cosa che mi premurerò di fare è iniziare ogni periodo della mia vita facendo una bella paginetta disegnata, colorata, colorare molto rilassante anche per noi adulti con le stagioni del mese perché a me piace molto la scansione stagionale. Quindi non so, inizierò a scrivere dal 21 settembre, ecco metterò magari i funghetti, i ricci, la zucca e li colorerò e poi scriverò naturalmente quando voglio durante quest'autunno le mie riflessioni, il mio diario, il personale diciamo. Poi nel momento in cui io andassi a riscrivere appunto il primo giorno in cui scrivo all'inverno farò la mia paginetta tematica con tutte le cose dell'inverno. Quindi io la scandirò in questa maniera, però ripeto fare l'agenda fai da te ti dà quella libertà di poter poi decidere come strutturarla in maniera poi da non sprecare delle pagine perché vi ripeto la mia agenda, l'ultima agenda che ho avuto bellissima però poi ripeto di fatto a livello di pagine di diario l'ho sfruttata poco, tante pagine sono vuote ed è un peccato. Ultima cosa, se devo aggiungere delle altre cose importanti le andrò a aggiungere partendo dalla fine, ad esempio dalla fine del mio quaderno andrò a mettere delle pagine dedicate alle ricette. Perché le ricette? Perché per me sono importanti segnarmi le ricette che piacciono soprattutto a tutti perché ragazzi lo sapete è difficile conciliare i gusti di tutti e quindi metterò proprio tutte le ricette che io faccio quotidianamente, quelle proprio che noi usiamo e amiamo di più in famiglia. Perché me le voglio scrivere? Me le voglio scrivere perché io ogni tanto non so che cosa fare e mi dimentico che ci sono delle ricette che piacciono a tutti, magari non le ho fatte da un bel po' me le dimentico, invece scrivendoli qua io andrò a vedere ogni volta che farò il plan settimanale tra l'elenco delle ricette preferite della mia famiglia e appunto avendole tutte davanti agli occhi non me ne perderò neanche una e riuscirò ad alternarne, ad alternarle scusate, in maniera corretta durante il mese. Poi naturalmente andrò ad aggiungere quelle nuove che ho sperimentato, ad esempio in questi giorni ho scoperto una ricetta che piace molto soprattutto ai miei bimbi e che include la verdura e questo è una grande scoperta ovviamente, le mamme lo sanno, che è un meraviglioso risotto con le melanzane, con una procedura particolare, ecco è una nuova ricetta che piace, benissimo la vado ad inserire, questo è un nuovo cavallo di battaglia da inserire nel menu plan per variare un po' anche nella nostra dieta. Quindi questo è quello che farò, se avrò delle altre cose da aggiungere le aggiungerò partendo dal fondo e lascerò invece questa parte dedicata, la parte qui andando avanti, dedicata al diario. Cosa succede se finiscono poi le pagine, se finiscono prima del tempo? Beh è molto semplice, si va a prendere un altro quadernetto di queste dimensioni, la copertina iniziale del quadernetto si va ad appiccicare a questa ed ecco qui che abbiamo un diario più corposo fatto da due quadernini dove possiamo continuare a scrivere senza problemi di spazio e di nulla. Quindi diciamo che questo è un metodo che noi utilizzavamo a scuola, me lo ricordo, per avere ad esempio finiva il quaderno di matematica ma per avere tutti i quaderni dell'anno insieme li univamo e quindi avevamo poi tutto il programma all'interno di un unico quadernone ed è quello che io farò nel caso dovessero finire le pagine prima della fine di dicembre 2025. Quindi questa è l'organizzazione della mia agenda fatta da un quadernino, ripeto agenda un tanto al chilo ma veramente molto utile e soprattutto ripeto personalizzata per le mie esigenze. Mi raccomando una cosa che vi chiedo e che vi dico è scegliete veramente una copertina che vi piaccia perché anche quello, anche l'occhio vuole la sua parte e magari la copertina di un animale che vi piace, di un paesaggio, di un cartone animato, ecco può darvi un po' quella voglia anche di poterla compilare. Ma ripeto questa è proprio un'agenda per persone poco costanti e per persone che non vogliono comunque sprecare delle pagine ma vogliono avere proprio un'agenda a sua misura e soprattutto super economica. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi rimando se volete ad un prossimo video e alla prossima, ciao!